Le immagini registrate ieri pomeriggio continuano ad essere eloquenti. Da un lato resta un dato oggettivo, due nubifraggi con precipitazioni sino a 53 mm in poche ore e a distanza di cinque giorni sono un evento eccezionale. Dall'altro lato restano le considerazioni dei cittadini e degli esperti se le conseguenze del primo nubifraggio, anche per bocca del sindaco Orlando, erano in gran parte ascrivibili a ritardi nella manutenzione e nella pulizia dei tombini, delle caditoie e delle grie di raccolta, soprattutto nei punti storicamente critici come i Viale Regione Siciliana, Viale Michelangelo, Mondello, Via Messina Marina e Partanna, Mondello. In questa settimana questi lavori avrebbero dovuto subire un'accelerazione proprio per evitare che Palermo, davanti ad eventi atmosferici di notevole portata, tornasse a trasformarsi nella Laguna Veneta. Invece no, come anche le nostre telecamere hanno documentato, i cumuli di aghi di pino, di erbacce tagliate a fine settembre e di fogliame raccolto e accumulato negli ultimi giorni sono rimasti lì. Le piogge di ieri li hanno comodamente riportati sulle griglie e sugli scarichi. Due sottopassi di Viale Regione Siciliana, Via Lazio Rotonda Einstein, sono stati chiusi, problemi anche per il sottopasso di Via Belgio, allagato il sottopassaggio di Via Messina Montagne. Automobilisti in trappola per l'intero pomeriggio, nove chilometri di coda dallo svincolo di Tommaso Natale a quello di Via Belgio. Oggi è un coro di polemiche, non è possibile che Palermo si allaghi se piove più del solito. In questo sabato, che sa tanto di day after, il sindaco Orlando elogia la macchina dei soccorsi e dice paghiamo dieci anni di ritardi e assenza di progetti seri nella manutenzione e nel potenziamento dei sistemi riraccolta delle acque. Sarà anche vero, lo stesso disse, solo per dovere di cronaca il predecessore di Orlando, Diego Cammarata, riferendosi al proprio predecessore che era Orlando. Inutile ingenerare polemiche sulle responsabilità pregresse, forse sarebbe il caso di potenziare i servizi di manutenzione e di protezione civile per il futuro e di assumere come impegno prioritario quello di non trasformare una città candidata ad essere capitale della cultura nella Venezia dei poveri ogni volta che arriva un ubifraggio.